Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video per la serie Affitti Brevi in 30 giorni. Oggi parleremo di prenotazioni cancellate, come gestirle e soprattutto come evitarle. Prima di iniziare con questo video vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace per supportare il nostro operato. E vi ricordo che dal link qua in descrizione potrete avere ben due regali. Una consulenza gratuita con il nostro team per capire come operare nella vostra zona se già lavorate con Airbnb in maniera ancora migliore e se ancora non lavorate in questo settore, come poterlo fare e se ha senso farlo nella vostra zona. Oltre a questo abbiamo un ebook completamente gratuito che potete scaricare ancora una volta dal link qua in basso. Partiamo con questo nuovo video. La cancellazione di una prenotazione può essere molto rilevante in base alla zona in cui operiamo. Se ad esempio lavoriamo in una città come Milano, Roma o Torino e ci cancellano una prenotazione da una notte non dobbiamo impanicarci perché probabilmente qualcun altro riprenoterà al posto di quella persona o comunque anche se nessuno riprenota l'ammanco di denaro sarà sicuramente minore. Dall'altra parte se invece opero con delle strutture ricettive, estive, magari delle ville e mi cancellano il giorno prima di arrivare dal 10 al 30 di agosto sarà molto più complicato trovare un qualcuno che possa bloccare le stesse date e evitare un grosso ammanco di denaro. Ecco perché è importantissimo avere padronanza dei termini di cancellazione. È bene dunque essere consapevoli che i termini di cancellazione li scegliamo noi ed abbiamo il pieno controllo su di essi. Infatti non è che l'ospite fa quello che vuole e ne esce sempre pulito ma siamo noi a scegliere che tipo di termini di cancellazione inserire in fase di prenotazione. Per creare delle tre macro-categorie abbiamo dei termini di cancellazione flessibili, moderati e rigidi. Come potrete intuire dai termini di cancellazione rigidi ad esempio un ospite può non ricevere nessun tipo di rimborso. Con dei termini di cancellazione moderati di norma può ottenere un rimborso solo se cancella con molto anticipo e con dei termini di cancellazione flessibili può cancellare praticamente poco prima di arrivare ottenendo un rimborso completo. Ed ecco che la prima cosa che vi consiglio di fare è quella di analizzare bene i termini di cancellazione delle piattaforme con le quali lavorate proprio per evitare gli inconvenienti di cui abbiamo parlato poco fa. Ad esempio in delle località estive dove una persona prenota magari con largo anticipo io tendo a mettere dei termini di cancellazione rigidi o moderati mentre nelle grandi città dove una persona soggiorna una notte e c'è un grande flusso di turisti un grande vai-vieni durante praticamente tutto l'anno allora adopero dei termini di cancellazione flessibili. Ma perché non metto sempre i termini di cancellazione rigidi a prescindere su qualunque appartamento? Beh perché comunque una persona prima di prenotare guarda effettivamente i termini di cancellazione che ci sono. Se ad esempio a Milano da una ricerca di mercato sfruttando il software Badly Go mi rendo conto che il 90% degli alloggi ha dei termini di cancellazione flessibili il fatto che io metta dei termini di cancellazione rigidi significa che mi mette in fortissimo svantaggio rispetto ai miei competitor. Dall'altra parte magari faccio una ricerca di mercato con Badly Go in Liguria o in Sardegna in zone ovviamente molto stagionali e dove la gente fa molti soldi principalmente d'estate è ovvio che la maggior parte delle persone utilizzerà dei termini di cancellazione rigidi e magari io per differenziarmi posso utilizzare dei termini di cancellazione moderati per essere sì tutelato ma differenziarmi appunto anche dalla concorrenza. Un'altra opzione che danno le piattaforme è quella di magari paghi di meno ma hai dei termini di cancellazione più rigidi oppure paghi di più e hai dei termini di cancellazione flessibili. Infatti sia Airbnb che Booking danno la possibilità proprio all'ospite solo ed esclusivamente se tu property manager, proprietario di casa o host vuoi attivare questa cosa di scegliere quanto pagare in base al termine di cancellazione scelto. Quindi sei sicuro che non cancellerai e scegli dei termini di cancellazione rigidi ti faccio un piccolo sconto oppure sei incerto e vuoi dei termini di cancellazione flessibili paghi di più almeno io rischio ma guadagno di più a seguito di questo rischio che mi sto prendendo. Però ricordatevi di analizzare sempre quello che fa la concorrenza per evitare di essere gli unici nella zona ad avere ad esempio dei termini di cancellazione rigidi perché come dicevo poc'anzi una persona di norma un cliente prima di prenotare controlla effettivamente che tipo di facoltà di cancellazione ha se può cancellare o meno e ancora una volta se siete gli unici ad avere quella rigidità probabilmente l'ospite preferirà prenotare da un'altra parte. Però non tutti i mali vengono per nuocere abbiamo visto ad esempio che un ospite può cancellare una settimana prima di arrivare nel tuo alloggio ma questo potrebbe essere in realtà per te un motivo di guadagno perché a seguito di questa cancellazione tu se hai dei termini di cancellazione rigidi otterresti un rimborso ad esempio un ospite può cancellare una prenotazione una settimana prima del suo arrivo se abbiamo dei termini di cancellazione flessibili otterrà un rimborso mentre se abbiamo dei termini di cancellazione rigidi non otterrà un rimborso oppure otterrà un rimborso parziale ciò significa che noi guadagneremo denaro per non ospitare quella persona perché ha pagato una penale quindi capita spesso che una persona cancelli noi otteniamo comunque il 100% o il 50% dell'importo pagato e nonostante ciò abbiamo la possibilità di riaffittare le nostre stanze o immobili o ville ad altre persone ed ecco che da una cosa che potrebbe sembrare negativa ovvero una cancellazione in realtà abbiamo tratto un guadagno maggiore quindi una cosa negativa si è trasformata in positiva perché non solo ho ottenuto un rimborso da parte di questa persona ma sono anche riuscito a riaffittare guadagnando di più rispetto alla norma quindi è importante per tutelarsi avere la certezza di avere tutto sotto controllo impostare dei termini di cancellazione studiati su quella che è la nostra volontà e il nostro grado di rischio che vogliamo attuare ma anche sulla base di quello che stanno facendo i competitor proprio per evitare di essere fuori mercato ovviamente se hai un monolocale andrai ad analizzare quello che fanno i monolocali mentre se hai una villa ti conformerai a quello che stanno facendo le altre ville ed è importante capire se la nostra tipologia di immobile è in linea con quella dei competitor perché se ad esempio io ho un immobile a Firenze affrescato con una vista pazzesca posso permettermi magari di mettere dei termini di cancellazione rigidi anche se dall'altra parte magari c'è un bilocale normalissimo che però non è affrescato e non ha la stessa vista con dei termini di cancellazione flessibili quindi è importante anche contestualizzare un attimo di che tipologia di immobili stiamo parlando perché se abbiamo dei dettagli che rendono il nostro immobile unico possiamo permetterci di fare un qualcosa che magari i nostri competitor non possono fare e tornando al discorso che un qualcuno può cancellare e lasciarci così le date disponibili pur avendo pagato una penale è importante analizzare le opzioni che ci danno le piattaforme come Airbnb e Booking perché spesso è possibile ad esempio impostare che se un qualcuno prenota last minute magari ha un 10 o 20% di sconto così facendo incentiviamo la famosa riprenotazione a seguito di una cancellazione di un altro cliente che come dicevo poco fa ci permette di guadagnare ancora di più quindi Mario ha cancellato la sua prenotazione e ho ricevuto il 50% del suo soggiorno ma avendo impostato delle regole grazie alle quali chi prenota last minute ha un 20% di sconto sono riuscito immediatamente a far riprenotare l'immobile abbiamo sì fatto uno sconto del 10 o 20% però dall'altra parte abbiamo comunque alla fin fine guadagnato di più spero che questa lezione ti abbia aiutato a capire meglio come sfruttare i termini di cancellazione a tuo vantaggio questa ovviamente è una tematica che all'interno del nostro percorso B&B Academy il più grande d'Europa analizziamo per filo e per segno con ore e ore di lezione a tal proposito ti ricordo che qua in descrizione trovi un contenuto gratuito targato B&B Academy e che se vuoi prenotare una consulenza gratuita con il nostro team puoi farlo sempre dal link qua in basso iscriviti al canale lasciaci un bel pollice all'insù e ci vediamo nel prossimo video da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy è tutto ciao ciao